I'm always extremely grateful to be in Danco. Sono sempre grato di essere qui a Danco. Così tante cose da imparare dall'energia che c'è in questo posto. E c'è la prova di questo tre anni fa Falco mi chiese di fare delle misurazioni energetiche qui e di cercare di provare scientificamente perché questo posto è stato scelto per ospitare la comunità di Lamanco. Posto numero uno. Il cerchio dei riti. Siamo venuti il 21 di dicembre per il rito del sostizio d'inverno. Ma qui c'è un cerchio. Nella distanza possiamo vedere campi orizzontali. Ma al di sopra possiamo vedere una cupola. una cupola semisferica. Non c'è nessuna piramide. Non c'è nessuna struttura. Ma ci sono persone che sono in un processo di un rito con la loro attività mentale. Quindi noi siamo in grado di influenzare la natura con la nostra attività mentale. e finalmente alle 13.09 al complimento del rito. Si può vedere che il campo energetico è andato cambiando. Da rosa fino ad arrivare ad azzurro che è un'energia di guarigione. Ora la colina di Etude dove sorgono i peli dell'umanità all'interno della colina. Qui abbiamo campi verticali quindi questa colina è energeticamente viva. Ora tempi dell'umanità campi elettrici alti alta umidità energia organica a 90 quindi l'energia vitale 50% più elevata del normale. Quindi seguendo queste misurazioni scientifiche elettriche e elettromagnetiche si dimostra che questa zona è veramente eccezionale unica molto speciale e questa area sopprime lo smog elettromagnetico quindi è uno spazio ideale per il rilassamento. Questo è un messaggio per l'umanità. Se l'umanità vuole sopravvivere se vogliamo sopravvivere dobbiamo sviluppare una coscienza globale. Grazie.